Eeeh, ciao ragazzi, qui è Sabit e benvenuti in questo video di Dragon Ball Xenoverse 2 Ragazzi, quest'oggi stiamo nel Colosseo degli Eroi Per vedere un po' la situazione Ma da come vedo abbiamo un avversario di livello 29 E questo già ha le UR Perfetto, perfetto, veramente perfetto Allora, io direi di giocare con la mia solita strategia So che così ho fatto una cosa suicida, ragazzi Però era l'unico modo per vedere Bene Chissà il nostro Bene, prevedibile Prevedibile che avrebbe messo Broly là Eeeh, ha messo quello e quell'altro dall'altro lato Devo fare attenzione perché non ce le ha tutti a livello 99 Questa è la cosa positiva Guarda, mi vai bene che attacchi tu per primo, guarda Io se mi... Devo capire bene come potenziarmi le miniature Perché non è possibile che devo ancora, come si dice, avere questa bassezza Ecco Zamasu mi fa male Fermati Fermo, fermo, bravo Vabbè, anche se loro due mi fanno il bonus Tanto alla fin fine ho la protezione di Junior, tanto Ho sbagliato a mettere Goku Perché mi dovevo mettere il Super Saiyan Blue adesso, ragazzi Ho sbagliato Fermo 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 Bravo Allora dai Junior, fai un po' di casino Perché quello ha il Jiren Potrebbe mettere pure il Jiren là, ragazzi Eeeh, si Purtroppo questo è Dai Goku, vai, vai E tu 5.000 li levi, vai Bravissimo Potevi fare il bonus, cazzo Bonus tu Allora, io attacco di due Ma ascoltatemi Volendo potrei lasciare di nuovo Goku E metto in campo questo Goku Al centro chi può schierare, può schierare Gogeta, Zamasu e Jiren E basta Io, ecco, infatti Avete visto chi ha messo? Prevedibile qua, ragazzi Lo sapevo che Metteva Gogeta là Quindi dobbiamo fare attenzione, eh Dai, dai, dai Penso O vi carico solo questo oggi O Ne facciamo un'altra pure Mi va bene che attacchi tu per primo Perché io così mi posso pure potenziare In realtà si potenzia più lui Cambia la sua velocità Fermo Ecco, te pareva Eh, pessima Davvero pessima Fermo Fermo, broli, fermo Vabbè, dai Al diavolo proprio Al diavolo proprio Al diavolo proprio Ti scorda sempre Adesso è cosa Però Junior adesso Non leva Io adesso Junior lo levo Ti prego Junior, ti prego Fai anche un bonus Ecco, ma ci faccio E solletico Comunque, ah Non è che Faccio più di tanto Bravo, ah Le, buttalo tu Per favore Giù Perfetto Perfetto Grazie Buttagli giù Zamasu Allora ragazzi Vado veramente qua Perché attiviamo Tutte e due L'attacco Supremo Allora abbiamo Attacchiamo Tutte e due Adesso io so Lui chi metterà Al centro Lui adesso Metterà Io adesso Goku lo levo E faccio entrare In campo Quest'altro Goku Mo' dipende Broly leva 5.000 Io 3.000 E mi mette Jiren però So che mi metterà Jiren Jiren leva 4.000 Gohan Quanto c'ha? C'ha 9.000 Allora facciamo così Io sono disposto Anche a subire Danni Ma perché Ecco Infatti Avete visto Chi ha messo? Ha messo Ha messo Jiren Lo sapevo io Che metteva Jiren Guarda Lo sapevo Che metteva Jiren Prevedibile Guarda Vai vai Fai tu Fai tu Perché tanto Lo so Che Jiren Eleva tanto Perché così Non perdo Gohan Ragazzi Posso perdere Gli altri due Però Non perdo Gohan Cacchio Cacchio Se mi ha fatto male Adesso Tutte e due Questi qua Mi faranno i bonus Ho sbagliato Fanno il bonus Fanno il bonus Fermo E Broly Mi fa male Raga Ho perso Ho perso Perché dovevo lasciare Dovevo lasciare Junior Però non ce la facevo Però non ce la facevo Perdevo stesso Junior Eh ho perso Ho perso Ho perso Ho perso Ho perso Vabbè dai Non ci lamentiamo Non ci lamentiamo Perché alla fin fine Guardate Alla fin fine Non mi lamento Eh Ho perso Ho perso Ho perso Davvero Ragazzi Purtroppo Ho sbagliato Tecnica Perché Come avete visto Lui ha inserito Subito Jiren Ma lo sapevo Che Jiren Mi faceva male Perché io Se mettevo Junior Quello Jiren Me lo eliminava Junior Avrei avuto Qualche speranza Ma non ce l'avrei Fatta Anche se avevo La protezione Di Junior Fammi un po' Vedere Livello 27 Non mi dire Che è lo stesso Di prima Ma no No Non è lui Accetti La mia sfida Dai che forse La accetti Allora Allora Questi sono i miei deck Base Standard Questo è quello Competitivo E questo è quello Forse definitivo Che però Lo sto migliorando Un po' Ritorniamo Con questi E vai E vai Sti canni Però Non è che Possono Far sempre Avanti e Indietro Dai Questa è L'ultima E studiamocela Bene Dai Questo che vedi È il mio deck Lo sapevo Ha quel maledetto Freezer Ha quel freezer Sulla velocità Allora Io direi Di fare così Ci lasciamo Controlliamone Un attimo Le miniature Acqua e looked Chi può schierare Di là Può schierare It Allora Io Giochiamo Così E mettiamo Goku Di qua Bene Prevedibile Prevedibile Parapaparaparaparaparaparaparaparapaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparap. Bene, perfetto che attacco io per primo Mi va bene, sempre se lui non ha un asso nella manica Ok, allora Goku, ascoltami Devi eliminare Hit Devi eliminare quella maledetta UR Almeno ci eliminiamo Gohan Perché Gohan aumenta l'indicatore del Supremo Bonus Perfetto Dai Goku, pensaci tu Pensaci tu Perfetto Sta passando la banda di Paperopoli Dai, muoviamoci Bonus Bravo Goku, bravissimo E di una UR è in meno, vai Bravo Bravo, bravo, bravo Tanto mi fa il solletico, tanto Io quel Goku lo lascio là E cacciamo fuori Goku Super Saiyan di quarto livello Perché adesso facciamo entrare in campo Goku Super Saiyan Blue Te la vado di Scarpa Nanza Porto, Umberto Anzi no, facciamo così Facciamo entrare in campo Gohan Facciamo entrare in campo Gohan Perché si è attivata, no Lui è di tre Aumentiamo la difesa sul colonna Mi ha lasciato la vittoria Ha lasciato Freezer Perché attacca lui per primo Mi va bene che attacca lui per primo Guarda No, dopo facciamo entrare in campo Gohan Se riusciamo a fare con questa tattica Guarda, va bene che attacchi tu Guarda Bene, bene Attacca, attacca Non mi succede nulla tanto Ho fatto male questo calcolo, guarda Eh, va o si che sto nella merda, cazzo Sto nella merda Sto nella merda, cazzo Perché mi ha fatto male Mi ha eliminato le due UR, guarda Io sono disposto a lasciare quel campo libero Però quel campo libero so che lui metterà Giren adesso Lo mettiamo qua così mi copro lui E mettiamo Gohan Qua chi può schierare E Giren Qua può schierare Giren però, raga Eh Ecco, lo sapevo Fermo Eh, l'ho perso Fermo, fermo Bravo Bravo Ma ora Giren mi fa male Fermo Dovete stare fermi, cazzo Dovete stare fermi Dovete stare fermi, cazzo Dai, dai Giren adesso mi fa male Perché ha quella mossa Questa mossa qua Questa mossa qua Fermo, fermo Fermo, giren, fermo 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 Cazzo Dai, stiamo andando a processione Dai, muoviti Bonus Bene, 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 bene Questo è quello che dobbiamo rimanere sulla casella, raga Dai, di poco, cazzo Quello muore Quello muo combatte lui Ma adesso ci faccio uno scherzetto Guarda Butta giusto Freezer Ci faccio il solletico, merda Ah, bene, 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 bene Attacca lui per primo adesso, ragazzi Perché mo' Ha la velocità Ma mo' adesso io non mi faccio fafesso, ah Io adesso, sapete che gli faccio? Faccio questo Ok Facciamo così Mi sono dovuto proteggere per forza, raga Mo' speriamo che nessuno di due lancia l'energia asferica, ah Fermi Fermi Ecco, bravi Bravissimi Va bene che attacchi tu per primo Sto chiedendo anche se mi fai il bonus, non fa nulla Mi sono dovuto proteggere per forza Fai, fai, fai Muoviti però, cazzo Perfetto, bravo Lo dovevi attivare adesso Adesso, cazzo Fermo Bravo Jiren, bravissimo Ok, ok, raga Bravi Abbiamo vinto comunque, dai Abbiamo vinto Meno male Meno male Vai Umberto, questo è per te, guarda Abbiamo vinto ragazzi Ci siamo portati a casa questa partita Perfetto Veramente perfetto Bene 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 In una abbiamo perso e in una abbiamo vinto Va bene ragazzi Ragazzi Io penso che per oggi il video può andare bene così Vi invito a lasciarmi un bel mi piace, un commento Iscrivetevi al canale Qua da Subbit è tutto E noi ci vediamo al prossimo video E noi ci vediamo al prossimo video